Turisti in calo alla Necropoli di Cerveteri che in tre anni ha perso 2.000 presenze. Secondo i dati della Direzione Generale del Bilancio del Ministero dei Beni Culturali, che rileva visite e introiti, nel triennio 2017-2019 si è passati da 64.000 visitatori a 62.000. A denunciarlo il consigliere comunale di Ladispoli, Giovanni Ardita, che parla della mancanza di una buona politica per incentivare il turismo. In una città, dichiara, che invece ha delle potenzialità incredibili. Mentre Tarquinia, nello stesso triennio, ha avuto una crescita di visite, purtroppo per la banditaccia non possiamo dire la stessa cosa. Se vogliamo pensare che la decrescita di visitatori sia dovuta in parte alla crisi economica, il discorso dovrebbe valere per entrambe le realtà, continua Ardita. Questi dati, invece, ci fanno comprendere che la politica a Tarquinia è investito sul turismo. Al contrario a Cerveteri, in 20 anni non si è riusciti a costruire un albergo ad una stella. È necessario istituire convenzioni tra il comune di Cerveteri e l'autorità portuale, in modo che molti turisti che scendono al porto di Civitavecchia visitino la necropoli e poi vadano a Roma o in Vaticano.